Sì, grazie Presidente. Ragazzi, colleghi. Io avevo chiesto la parola anche per una dichiarazione di voto precedente sull'educazione civica che condividevamo proprio per l'aspetto dell'educazione al civismo e quindi un'idea di una scuola che si rendeva partecipe in orario extrascolastico, con modalità che dovevamo anche magari valutare meglio, ci mancherebbe altro, comunque era incoraggiante rispetto alla crescita di consapevolezza di un empowerment collettivo e di comunità rispetto ai diritti civili. Quindi in questo senso la sentivo come una buona mozione, credo sia in contraddizione con questa, mentre quella di prima laicamente e quindi in maniera estremamente puntuale cercava di rendere i cittadini più consapevoli e anche più esigibili dei propri diritti attraverso l'educazione civica, dal mio punto di vista, cittadini che l'educazione fisica, soprattutto gli adulti, non l'hanno fatta a scuola, i programmi scolastici sono stati carenti da questo punto di vista nell'insegnamento in questo senso. Io stesso che ho fatto il liceo classico, poca roba d'educazione civica, quindi questo aspetto di implementarla è una cosa buona e spero che nella Commissione poi si riprenda in mano questa idea. Viceversa credo che al netto delle cinque conadi dei ricci di mare sia discriminante, sia discriminante in sé, proprio perché introduce un orientamento di non valutazione dei diritti civili di tutti. Quindi in questo senso con tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle dichiaro il vuoto negativo.